Laia di Milano e laia di Milano So, I work for the Research Centre on Public Health of the University of Milano Bicocca and the research I am going to show today is about the association between exposure to particulate matter and the consumption of specific cardiorespiratory drugs in Lombardy. Seven cities located within Lombardy. Ciò che vediamo nei nostri risultati è che c'è una associazione corta termina tra l'exposione per particolare e la consumazione di droghe. Queste droghe sono specifiche per il trattamento dell'asthma, per il trattamento dell'abstratto cronico e obstruzione, per l'arrhythmia, angina e la malattia congestiva. Grazie a tutti!